Piccoli ProPlayer, buongiorno, benvenuti, sarà la prima volta che stai sul mio canale YouTube, altrimenti bentornati. Oggi il video viene direttamente da voi e dai vostri commenti, perché l'idea purtroppo non è balenata dalla mia mente pagata, ma è nata proprio da alcuni commenti che hanno lasciato alcuni di voi nei video precedenti. Video che tra l'altro potrebbe essere utile a molti di voi, anche se siamo a giugno, quindi potevo anche ricordarmi prima, però sicuramente poi per il prossimo anno si vorrebbe fare anche un format o una serie mensile o trimestrale, non lo so, sembra che sto parlando di abbonamenti in palestra, in cui vi consiglio i migliori SuperSub, perché è di questo che stiamo per andare a parlare. Per chi magari è meno pratico con l'inglese, cosa significa migliore SuperSub? Sub sta per l'appreazione di Substitution, o substitute, ovvero sostituto, quindi i migliori giocatori che entrano dalla manchina e spaccano la partita. Quindi easy, sempre perché è meno pratico con l'inglese. Ovviamente SuperSub ce ne sono una marea, quindi non è che ve li posso consigliare tutti quanti, altrimenti questo video durerebbe 40, 50, 60 minuti e non voglio appesantirvi troppo, quindi entriamo subito nel vivo del video. Vi consiglio quelli che principalmente utilizzo io e anche quelli che mi fanno bestemmiare quando l'incontro. Attenzione però bisogna fare una premessa, perché tanti di voi mi scrivono magari nei direct Instagram o in live, chi mi consigli di comprare con 200k, con 300k da SuperSub? Ragazzi la risposta è nessuno. Non dovete spendere soldi per i SuperSub. Come SuperSub, solitamente, o almeno io faccio così, utilizzo giocatori che o ho trovato nei pacchetti, o ho trovato nei pick, soprattutto ora che con la Weekend League è molto facile trovare gente discreta e utilizzabile anche come SuperSub, oppure che ho sculato nelle Icon o nell'Iro, ma non spenderei mai i soldi per i SuperSub, perché sono davvero giocatori che servono solo all'occorrenza e che spesso abbiamo già nel club. Quindi se avete trovato, non lo so, Sunny, avete fatto l'SBC di Gnabry, avete fatto l'SBC di Maximen, avete trovato altri giocatori non scambiabili che non sapete come utilizzare o dove buttare perché magari difficili da abbritare, ma sapete che sono buoni, mettetevi in panchina e utilizzateli come SuperSub. Easy. Il primo giocatore non poteva che essere lui, Tammy Abram, ragazzi, un giocatore spaziale, soprattutto su Next Gen, ma vi assicuro che è forte anche su Old Gen. Chi l'ha sbloccato sa di cosa sto parlando, ma in realtà anche chi non l'ha sbloccato, perché sicuramente se lo sarà beccato non so quante volte contro i WinLeague o i Rivals. Era forte anche prima di ricevere l'upgrade alle stelle più detebili, perché nel momento in cui uscìva la sua SBC era un 4-4 con queste identiche statistiche. Ragazzi, questo è un giocatore fenomenale, è un attaccante fisico, è un attaccante veloce, ha un ottimo controllo palla ed è un finalizzatore clamoroso. Se parte in velocità i difensori non lo spostano, davanti alla porta non sbaglia un gol, di testa è forte, è forte con entrambi i piedi. Puoi fare anche le skill basic, quindi quelle con quattro mosse di abilità. Ragazzi, è il giocatore più simile ad Alan Tozzi che ci sia sul mercato, in realtà che non c'è sul mercato, ad un costo veramente irrisorio, quindi se l'avete sbloccato, GG per voi, se non l'avete sbloccato, mi dispiace. Il secondo, ve lo consigliate, trovate anche la recensione che vi lascio qua sopra, non ricordo in realtà se la sua SBC sia ancora disponibile, in caso obbligatevi a farla, Rafa Leao Potma. Lui è veramente un treno, ancora più di Abram perché ha la stessa velocità a campo aperto, ma fisicamente è molto più spesso perché ha un body type più robusto rispetto a Abram che in realtà ha un body type un po' più esile e slanciato. 4-4, purtroppo non ha le 5 mosse di abilità, ma lui è molto simile ad All Overhand World Cup che conoscete benissimo perché chissà quante volte vi ha fatto smadonnare. Lui deve utilizzarlo non attaccante ma esterno, lo mettete a destra, lo lanciate, come ho detto anche nel video della sua recensione, tirate dritto, tirate dritto, correte, 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 la mettete al centro e segnate oppure tirate e segnate perché è anche un ottimo finalizzatore. Lui l'ho visto spostare ai giocatori come Ruben Dias, come Sergio Ramos, come ovviamente l'ultimo game PMP di cui trovate sempre la recensione sul mio canale e che, diciamo che fisicamente, non è che regga tantissimo. Al momento è forse il mio super sub preferito insieme ad Abram. Anche lui lo inserisco spesso, infatti vedete 27 gol fatti in 59 partite giocate, tutte ovviamente da subentrante. Il terzo, per chiudere la triade dei miei super sub preferite, è ancora un SBC perché siamo partiti solo e esclusivamente con questo e dopo andremo a vedere anche i giocatori che potete acquistare sul mercato tuttora, è Gareth Bale. Anche lui carta uscita mesi e mesi fa, non ricordo se è addirittura a dicembre o a gennaio forse durante i Todi, non lo so, se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti qui sotto. Carta che tuttora dopo mesi e mesi ancora rende benissimo. Lui giocherebbe bene anche da titolare e ve l'ho dimostrato quando abbiamo fatto la recensione di Giorgio Nichellini. Che trovate, indovinate dove, sempre per il mio canale YouTube. Altro giocatore che può giocare sulla fascia principalmente, velocità stratosferica, simile all'Eau ma con il body type però di Abram perché anche lui è alto ma è più esile. Lo mettete a sinistra per tirare dritto e per metterla al centro oppure per tirare di incrociare. Anche lui, finalizzazione fantastica. Infatti vedete le statistiche di tiro, comunque potenza tiro 99, finalizzazione 90. Si sentono tutte, questa carta quando uscì non lo sapevamo ma era già un mostro. Ma nessuno lo utilizzava a titolare ma semplicemente da Super Sub proprio perché era impossibile da linkare. Il prossimo è Juan Guilherme Quadrato, odiato da tanti anti-Giuventini ma in realtà forse ora lo odiano anche gli Juventini. Non lo so, fatemelo sapere voi. Ma qui stiamo parlando di FIFA quindi non di calcio, non degeneriamo per favore. Anche lui lo utilizzo spesso, ora un po' di meno ovviamente perché con tutti i tozzi Super Sub ce ne sono veramente tanti, lo vedrete anche nel corso del video. Qual è la cosa buona di questo quadrato? Che come Super Sub vi fa tantissimi ruoli perché può fare l'esterno destro, il terzino sia a destra che a sinistra ma soprattutto anche la mezzalo e il centrocampista. Perché questo è un giocatore veramente super duttile che può fare tutto perché è bravo in fase offensiva ed è bravo anche in fase difensiva. Tanto è vero che io ancora non l'ho buttato nonostante sia uscito anche lui da 4-5 mesi. Next stiamo parlando di un giocatore un po' più recente, un SBC più recente che in realtà ho visto fare a tantissimo anche perché il costo era veramente irrisorio ed ora è diventato un mostro. Ovvero Thomas Meunier. 5 massabilità, 5 piede debole. Questa volta però vi sconsiglio di utilizzarlo in fase offensiva quindi non mettete l'esterno, non mettete lo CAC, non mettete lo attaccante ovviamente. Anche se comunque le statistiche sono discrete. Lui va utilizzato o come centrocampista o come terzino anche come esterno a tutta fascia se volete difendere magari in un 5-4-1 di cui trovate le tattiche indovinate dove sul mio canale. O anche come DC sia a 2 sia in una difesa a 3 dove io lo utilizzo appunto nel 5-4-1. Tra l'altro lui è titolare nella mia squadra quindi non è che lo utilizzo super sub, io lo utilizzo proprio titolare. Però essendo difficile da linkare, prima di inserirlo lo utilizzavo super sub e vi assicuro che faceva il suo sporco lavoro. Questo è l'incubo di tutti sia in questa versione che in quella TOTS. Ovviamente Musa di AB, altra SBC che la IE ci ha praticamente regalato perché ci fu anche un errore che lasciarono la sua SBC anche dopo la vittoria dell'Everkusen in Europa League che passa il turno. Quindi ve lo prendevate già upgradeato. Ho ricevuto altri due upgrade dopo quella volta, poi è stato eliminato ovviamente dalla Roma che gioca stasera, da IE Roma. E tuttora è un top super sub, ma non solo su old gen, ma questo pure su next gen. È uno dei pochi giocatori brevilinei che davvero risulta fastidioso anche su next gen. Perché ha un controllo palla atomico, un'accelerazione stratosferica e una velocità scatto incredibile. Ho finito gli aggettivi. Ovviamente se avete trovato la sua versione TOTS, meglio ancora. Ogni volta che me lo trovo contro mi purga, sistematicamente. Quindi andiamo avanti che non lo voglio più vedere, grazie. Questo finalmente potete comprarlo, ovvero Yusef Atal. Anche lui l'ho trovato, quindi non scambiabile, ma è ancora disponibile sul mercato anche a prezzi abbastanza bassi. Lui è un quadrato sotto steroidi, ma non perché sia forte fisicamente, ma perché ha tutte le statistiche migliorate. Ma può fare gli stessi voleri di quadrato, perché può fare l'esterno destro, l'esterno sinistro, il terzino e il centrocampista. Se volete, ha le brutte, ma dovete proprio sta messi male male. Anche attaccante, perché ha un buon tiro, ha 5 di piede debole, ha 4 mostabilità. Lui l'ho trovato, altrimenti non so se l'avrei consigliato. Ma vedete, 77 partite giocate per Gabriel Martinelli. Ragazzi, una fantastica sorpresa. Pensavo che su old gen non rendesse così tanto, e invece lui, insieme a DAB e insieme a qualcun altro, è uno dei pochi brevi linee che su next gen rende ancora alla grande. Lui potete usarlo sia CAC sia esterno. Ve lo sconsiglio attaccante perché non ha quella finalizzazione di attaccante. Non è molto cinico, ha sì un ottimo tiro, ma spesso sbaglia qualche gol di troppo. Lui, sia CAC al centro, sia CAC laterale, o esterno sinistro o esterno destro, fa assolutamente benissimo il suo lavoro. Corre tanto, ha un ottimo controllo palla, ha anche un ottimo tiro da fuori aria. Ha degli ottimi passaggi, quindi se l'avete trovato, bene. Ovviamente, se dovete comprarlo, anche no. Adesso andiamo proprio sull'all low budget. Lui ve lo consiglio perché quando uscì ce l'avevo pick, poi dopo l'ho buttato per vari motivi, ovviamente. Poi non mi serviva nemmeno più. Ma vi dite, sia su old che su next gen, la sua versione IF era devastante. Un giocatore lenti, uno dei migliori esterni sinistri di Lee Gunn. Anche se ora è uscito ovviamente la sua versione Toz, quindi potete benissimo prendere lui. La sua versione Toz diciamo che rende meno rispetto a questo, perché ovviamente quando uscì questo non c'erano i Toz, non c'erano tutte queste carte rottissime, anche se c'erano tante altre promo. Però vi assicuro che lui è veramente un'ottima carta. Se vi riuscite a fare, ripeto, anche il Toz è molto simile, però non prende il length a differenza di questo. Definirlo Super Sub in realtà è quasi un insulto, perché per me è un titolarissimo tuttora. Dopo tantissimi mesi vedete solamente 253 partite, ma in realtà perché l'ho venduto e poi ricomprato. Sto parlando di Kylian Bappe, che acquistai addirittura a 540.000 crediti. Ora lo trovate forse a 200.000 crediti, ma secondo me quando finisce il Toz e Lee Gunn riscenderà sui 100-120.000. Ragazzi, lui per me da titolare è ancora uno dei migliori esterni sinistri del gioco. Non oso immaginare da Super Sub i buchi che potrebbe fare. Quindi se ce l'avete in uno scambiabile, se ce l'avete visite su fai di averlo titolare perché ce l'avete da settembre, da ottobre. Non volete più utilizzarlo, non buttatelo, non vendetelo, tenetelo in panchina e utilizzatelo per recuperare le partite. Perché lui vi può fare l'esterno a destra, l'esterno a sinistra, l'attaccante, qualunque ruolo. Veramente, veramente una spanna sopra tutti gli altri. Chiudiamo con Jung Min Son, un giocatore che io amo. In realtà non tutti lo amano, alcuni addirittura non ci saranno bene, però vabbè, so gusti. Ho avuto la versione 90, ho avuto la versione 91, questa purtroppo non l'ho trovata, però tanti di voi l'hanno trovata nei pick. Il costo sul mercato è abbastanza alto, quindi non vi consiglio di comprarlo, ma se lo avete trovato utilizzato, perché anche lui può fare l'attaccante. E l'attaccante lo fa in maniera egregia, perché ha un super tiro, ha un super controllo palla, si gira molto bene, ha un'ottima velocità, ha un po' di type esile che gli permette di girarsi anche abbastanza agevolmente. Non resiste ovviamente ai difensori molto fisici, come per esempio Rubendia e Sovandai, però da attaccante vi assicuro che rende la grande. Sembra un po' un big header, però con 30-20 cm in più. Esterno sì lo può fare, però diciamo che sull'esterno un po' soffre, perché sì è veloce, ma non ha quella velocità proprio strapotente, stile Alloveran, stile Leao, stile Mbappé, che vi ho appunto consigliato prima. Quindi questa era la lista completa di tutti i miei migliori super sub. Come vi ho detto anche prima, vi ho elencato quelli che io ho utilizzato, o quelli che quando becco contro noto che comunque fanno la differenza, ma avrei potuto farvi veramente una lista infinita. Quindi questa lista possiamo benissimo continuarla nei commenti qui sotto, perché sono curioso di sapere chi sono i super sub che utilizzate voi, quelli che davvero vi spaccano la partita, e quali invece quelli che odiate quando beccate contro, che appena vedete che la berzata li inserisce, dite, ecco, ora subisco gol. E magari potrei anche rifare un video con i vostri migliori super sub e analizzarli un po' tutti. Vi ringrazio, come sempre se avete visto il video fino a qua, io vi ricordo che mi trovate in live ogni giorno alle ore 14.30 sul canale Viola, trovate anche il link di tutti gli altri miei social qui sotto in descrizione, noi ci vediamo alla prossima. Bella!